Il Dicembre del 1940 Dopo Chi le scuole reclute? Questi che fanno una curva di piccicciuga Belinzona Questi che Belinzona Questi della Croce Rossa Berna Allora ci fanno Questi fanno tutti rifugiati E veniva quasi tutta la vostellina Ogni tanto arrivava dentro i doni Fino a Zurich E ne erano qui che diceva che erano i cisterni Paloni Ci erano dei vigneti Fini l'aveva detto L'aveva detto E bisognava controllare i badali Vi profondi E mi arriva da via Che c'è una balerna In che anni? Da 1993 44 Sì Da quell'epoca lì Perché dopo sei con la polizia Poi i problemi Ci stai Perché bisogna controllare i badali Ce l'aveva detto Un tocchetto a fanno A mezzo a poma Mi ha fatto Ma Praticamente Perché lì Si vedeva la miseria Scarlatina Si stai tutti In quarantena Sì Si stai Un giorno A palazzo Da settembre Ebrei Quasi tutti ebrei Si quasi tutti ebrei Si si Quasi tutti ebrei Si si Quasi tutti ebrei La metteva Si si Li metteva lì E anche la casa d'Italia I figli I figli Chi che sanno più pavano? I figli Ma i figli Generalmente Che erano Noi magari Favamo sulla colonia Non avevamo spazio Si venivamo sempre Favamo passeggiata A parte il periodo Che stai Scarlatina Però Era sempre Quei due Da loro Chi che favano come scuola Chi che favano come scuola Per andare mangiare Per vestire Come era Lì Dopo Lì Dato che dopo Mi spostavano Lì Gli lasciavano solo Vagali Se era bisogno Qualcosa Che andavano Ma altrimenti Ho capito che stavi A vero Una cosa rossa E per il tempo Fai Prendarti E là Arrivano Arrivano Di bambini Dette Anistate E Questi Sono per gli ebrei Sono per i protestanti Sono per i patolici Ah si Adrivano E Desseremo Un'appel Està Lì Amore Tutti Histori Un'appel 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 Un'appel